Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dice appunto che l'opinione su Monti è che siamo noi a dover esprimere, non più che lui però, a stima appunto di Monti, pensa che sia una persona con grandi capacità e appunto per quanto riguarda la crisi italiana, dice che abbiamo tutti gli elementi, ritiene che, è fiducioso che abbiamo tutti gli elementi per poter da sua vita. What's happiness for Tommy Blair? Grazie a tutti. Grazie. Grazie.